Aspra critica del presidente di Confcommercio Pescara, Ezio Ardizzi, all'amministrazione Alessandrini. Non è nuovo il suo dissenso verso le politiche dedicate al comparto del commercio, prima con la pedonalizzazione di Corso Vittorio, poi con l'innalzamento delle tasse per gli esercenti e infine con la crisi che morde e vede sempre più saracinesche che chiudono per mancanza di guadagni. Le nostre imprese non ce la fanno più, non ce la fanno più per gestione improvvisata, non ce la fanno più perché l'economia italiana, quella internazionale, sì però le imprese muoiono. Allora dobbiamo inventarci di tutto, qualche salvagente che li tenga a galla. Sono sempre poche le iniziative dedicate al comparto, iniziative che cercano di destreggiarsi tra innovazioni e nuovi stimoli. Un passo verso il futuro e la speranza che si possa muovere qualcosa. Ecco allora l'idea di una piattaforma elettronica per mettere in vista le attività commerciali della città. Oggi avere un e-commerce, avere la possibilità di poter andare online e vendere online non sostituisce l'avvertino, non sostituisce il negozio però aiuta. Tra l'altro con la possibilità anche di informare il nostro cliente perché se digita il nome di un negozio gli fa la piantina di pescare, gli fa il puntino, la freccetta e gli dice anche quale strada deve fare. È un modo moderno, un modo attuale, probabilmente siamo in ritardo, però noi ci mettiamo sull'autostrada e cominciamo a correre perché le nostre imprese non ce la fanno più.